Una nuova ricetta di Rosso Tibet, i fiori di acacia in pastella. Cogliere i fiori freschi, occorrente farina di riso, sale, olio per friggere, acqua e birra fredda. Versare in una terrina la farina, aggiungere l'acqua, stemperare con una frusta fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere il sale ed infine la birra. Immergere quindi i fiori nella pastella e poi nella pentola per la frittura. Estrarle quando saranno dorate e si possono servire sia dolci che salate. Alla prossima ricetta di Rosso Tibet.